Ciao a tutti! Recentemente ho postato un video dove ho suonato con la mia Complete Control S61 Mark II, vi metto anche il link alla mia recensione. Questa è con il mio nuovo MacBook, vi metto anche qua il link alla mia recensione. Un concerto piano e voce in realtà. Ho condiviso anche il video, mettendo appunto quando le dimensioni non contano, una battutaccia che mi sono permesso di fare. Perché in realtà ogni tanto dico, mi sembra che così ci sia un po' questa cosa, ah assolutamente io senza la tastiera pesata non posso suonare. Parliamone, ma prima di parlare ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, fare commenti, proposte e quant'altro e mettere un mi piace alla fine del video se chiaramente vi è piaciuto. Poi vi chiedo anche di andare a farvi un giro sul mio canale Patreon dove potete sostenere con pochissimo il mio lavoro e avere in cambio tutorial, PDF, trascrizioni, suoni e molto altro. Un contatto molto più diretto con me. Per il livello però ci sono anche delle lezioni online, comunque qualche contenuto in più, quindi ne vale la pena. Secondo me si sta creando una bellissima comunità. E poi se invece foste interessati ad approfondire quello che tratto sul canale, quindi da approfondire lo studio del pianoforte, delle tastiere, piuttosto che tutto il discorso che riguarda la sintesi, quindi tutta la creazione dei suoni, tutte le cose che tratto qui sul canale, sono tutti i vari software così, scrivete ad info.paologambino.com. Detto questo, allora io mi sono trovato in realtà a dover utilizzare questa tastiera non esattamente per scelta, per una disavventura che racconterò se vi iscrivete a Patreon, però appunto mi è piaciuto cogliere l'occasione per sperimentare. Con il mio amico Piero Leporale abbiamo questa situazione in cui facciamo brani rock, piano e voce, in realtà tastiere e voce, perché appunto in alcuni casi utilizzo anche qualche suonino, ma concettualmente è tutto basato sul piano, una cosa comunque live, con cui ci divertiamo molto. E ho voluto sperimentare appunto questa soluzione qua, che mi è piaciuta veramente tanto, mi sono divertito, mi sono divertito molto e devo dire che onestamente sì, magari mi mancavano delle note, ecco, più che il discorso della tastiera se debbo dire, anzi, su certe cose avere una tastiera con i tasti leggeri a volte ci permette anche di avere un pochino più di velocità, insomma, la dinamica onestamente c'era. E andiamo appunto a parlare di questo discorso che avevo già fatto, quindi, cioè, questo discorso appunto, la tastiera pesata ci serve sempre, dipende. Ogni tanto, secondo me, è un po' una roba nostra di testa, nel senso che se abbiamo una buona tastiera, secondo me quella per esempio della Complete Control, è molto piacevole e rende benissimo a livello pianistico e se siamo chiaramente capaci a gestirla, secondo me si possono fare delle grandi cose. Chiaro che una tastiera più estesa può essere, abbiamo delle note in più, certamente, ma a volte anche avere una cosa che ci mette dei limiti è una cosa molto interessante. Ricordiamoci sempre che una chitarra, comunque un'estensione di tre ottave e mezza, più o meno, una chitarra possiamo tenere in piedi armonicamente benissimo un brano, quindi voglio dire, già avere cinque ottave, dire che è già un grasso che cola. Poi chiaramente abbiamo, ricordiamoci che abbiamo messo il lettore di ottava. Comunque ritorniamo proprio al discorso della tastiera pesata. A me vengono in mente due esempi molto celebri, molto più, diciamo, più validi di me, ecco. Primo è Alberto Tafuri, che è un tastierista tolinese, che poi si sia trasferito a Milano, che lavorò, tra gli altri, con Eugenio Finardi, facendo un bellissimo disco che era acustica, disco veramente, veramente bello consiglio di andarlo ad ascoltare, l'epoca dell'Unplugged, parliamo dei primi anni 90, e in tour lui si portava appunto due tastiere, una delle quali, quella con cui faceva il piano, credo fosse una tastiera della Gem, S3, una roba del genere. Credo che fosse una 76 tasti, proprio faceva quello. E lo faceva più che bene. E un altro, un aneddoto altrettanto interessante, che avevo letto in un'intervista a Massimo Colombo, che è un signor pianista italiano. Lui, per intenderci, aveva questo bellissimo progetto con Walter Calloni e con il compianto Stefano Cerri, si chiamavano Linea C, appunto, facevano delle cose bellissime, comunque lui fa anche delle cose di piano solo, di ugual valore, e appunto raccontò che una volta si trovò, nella situazione appunto dove doveva fare una cosa di piano solo, e si trovò questa tastiera, che appunto non aveva i tasti pesati, aveva, credo fosse una roba semi pesati, se non mi ricordo, no? E ovviamente lui fece questo concerto così, faticando, quelle cose in cui non vedi l'ora di arrivare alla fine, sembrava di non avere dinamica, era insoddisfatto, insomma. Se non che gli venne data la registrazione di questo concerto, no? E lui, riascoltandosi, pensando ovviamente che probabilmente avrebbe buttato via la cassetta, perché all'epoca quello c'era, invece fu piacevolissimamente sorpreso dalla qualità comunque del risultato musicale. Pensava ovviamente che la qualità fosse molto più bassa, e quindi da quel momento lì decise di comprarsi una tastiera, come quella lì, che credo fosse una Kurzweil, per carità, con uno strumento comunque di qualità, ma appunto con i tasti non pesati, però era comodo da trasportare, aveva tutta una serie di vantaggi. Quindi, insomma, il discorso di tastiera pesata, ragioniamoci sempre, a volte tastiera pesata significa anche tastiera pesante, perdonatemi il gioco di parola, non sempre serve. Soprattutto poi, se facciamo rock così, ogni tanto secondo me è una fatica inutile, o una cosa di cui si può fare a meno. Chiaramente, insomma, il primo io a dire che se posso scegliere, preferisco una tastiera pesata, perché comunque ho più note, ho più un altro tipo di controller dinamico, più piacevole, ma se ne può tranquillamente fare meno. Io la penso così. Ne ho anche parlato in un altro video in cui avevo utilizzato il Discount Legend solo come controller, insomma, torno su quell'argomento lì, perché veramente ogni tanto, così, mi piace dare qualche spunto di riflessione. Un abbraccio a tutti, a presto, ciao!